E ovviamente si vince, si perde, si è perso, si sarebbe potuto vincere, si è perso, vedete che il risultato è molto, come dire, equilibrato. A me non resta che fare le congratulazioni al mio avversario e anche gli auguri di un lavoro proficuo nei prossimi 5 anni. Mi dispiace molto, soprattutto, non tanto per me, anche se ovviamente si dirò candidato in altre vincere, però mi dispiace soprattutto per tutti coloro che mi hanno sostenuto, lavorando anche gratuitamente, molto di buona lena, per raggiungere un risultato che non è stato consegnato, diciamo, proprio per uno scarto minimo, direi. E quindi il mio ringraziamento va soprattutto a tutti coloro che mi hanno sostenuto, che hanno lavorato per il mio campo elettorale e anche a coloro che mi hanno votato.